A Roma vive e lavora la coppia più prolifica del cinema italiano. Stefano Rulli e Sandro Petraglia firmano le sceneggiature di film come Meri per sempre fino ad arrivare a capolavori come La meglio gioventù, passando per Pasolini, un delitto italiano. Come avete iniziato? Noi abbiamo fatto i critici cinematografici verso la fine dell'università per due o tre anni. Poi ci è venuta la curiosità di vedere un set. E abbiamo chiesto a Goffietto Fofi se ci presentava Marco Bellocchio. Questo è stato un inizio particolarmente fortunato perché non soltanto è stato un film con Bellocchio e con Agosti ma un film documentario che andava nei cinema. Come iniziati a scrivere un film? Parliamo molto, facciamo insieme delle scalette, facciamo insieme il profilo dei personaggi, discutiamo molto degli sviluppi, delle cose e poi scriviamo separatamente. Dividiamo il copione in due parti o in quattro parti, uno scrive una parte, uno scrive un'altra, poi le scambiamo e io metto le mani sulle cose che scrive Stefano e Stefano mette le mani su quello che scrivo io. Finché arriviamo a una cosa che è condivisa. Era più complicata all'inizio perché quando non c'era di computer questo scambiarsi le cose significava passare spesso ore con le forbici a tagliare i pezzi che uno inseriva nelle scene dell'altro, poi dovevi spillarle. dovevamo vederci a metà strada, lui abitava a Monteverde, lui abitava a Porta Pia, ci incontravamo come due spie la sera. Insieme avete vinto 4 David di Donatello. Qual è stato il vostro primo film? Il primo film insieme è stato Mary per sempre. Venivamo da un grandissimo successo televisivo perché avevamo scritto la piovra in cui Michele Placido muore e con quello aveva chiuso con il ciclo del commissario Cattani. E così abbiamo scritto Mary per sempre, un film che non voleva fare nessuno perché c'erano troppe parolacce, perché era troppo duro. Essere amici aiuta la creatività. Ma nel nostro caso quando abbiamo cominciato a scrivere, essere amici significava venire da anni in cui avevamo letto gli stessi libri, discutendoli uno per uno, visto gli stessi film. Per cui siamo arrivati lì con una specie di bagaglio comune. Quando finalmente abbiamo cominciato a inventare, avevamo come una quantità, come uno zaino che se ne ha riempito. Quell'amicizia ci ha dato forza anche nei momenti di solitudine, quando tu presentavi un progetto che andava male. Un conto se lo fai da solo, un conto se lo fai con una persona con cui si è legato, per cui capisci magari dove abbiamo sbagliato. Il momento in cui ti viene un'idea è sempre un momento molto forte ed è come una pianticella piccola piccola a cui si aggregano subito un sacco di cose. Anche nei film apparentemente più lontani da noi ci sono sempre pezzi di storie nostre. La cosa su cui lavoriamo molto all'inizio è proprio come impostare i personaggi, perché i personaggi sono il cuore del film. Certe volte possiamo addirittura mollare tutti e due una scena, nel senso che se siamo in stallo, io la scriverei così, lui la scriverebbe così, siamo capaci di lasciare, se vediamo che non riusciamo ad andare oltre, la molliamo completamente e ne scriviamo una terza. Io personalmente sono legato a Bianca perché è il primo film che ho scritto, con anni ero amico, nel senso che andavamo insieme magari a farci una partita a Flipper o a mangiare una pizza. Amiamo molto i film che ci sono venuti particolarmente bene, non so Il lato dei bambini, per esempio è certamente un film che amiamo moltissimo. Abbiamo firmato gli articoli, i documentari, i libri, le sceneggiature e questa volta firmiamo anche questa intervista, vediamo. E questo non ce l'ha mai capitato.